Riattivazione automatica del Green Pass per chi guarisce dal Covid. Dopo il caos di questi giorni, con le file interminabili ritardi e di disagi causati dalla difficoltà di inserimento dei dati nella piattaforma nazionale che registra le necessarie informazioni relative ai vaccini e ai tamponi, il governo ha deciso di cambiare la procedura per i cittadini positivi al virus. Per ottenere dunque lo sblocco della carta verde non sarà più necessario il certificato di guarigione ma basterà l'esito negativo di un test molecolare o antigenico. Un altro passo in avanti significativo verso la semplificazione delle procedure, spesso per non dire quasi sempre troppo macchinose, in attesa di capire se il 5 gennaio l'esecutivo deciderà di allargare il Super Green Pass a tutti i lavoratori. Prima di allora dovranno essere superate le attuali inefficienze in modo che non ci siano problemi per il ritorno di chi ha avuto il Covid alla vita sociale e lavorativa. Al momento della scoperta della positività il Green Pass viene automaticamente sospeso a comunicarlo al cittadino poco dopo l'esito del tampone una mail o un sms. Ma attualmente la procedura per lo sblocco del Green Pass non è immediata e segue questi determinati passaggi. La struttura sanitaria che ha effettuato il tampone invia l'esito sulla piattaforma nazionale. Se l'esito è negativo il paziente deve inviarlo al proprio medico di base. Il medico di base emette il certificato di guarigione e provvede allo sblocco del Green Pass sulla piattaforma nazionale attraverso l'apposita funzione annulla interablocco. Questa procedura attiva l'invio del nuovo Green Pass. Ma come detto in vista degli obblighi che entreranno in vigore il 10 gennaio prossimo e renderanno indispensabile per la maggior parte delle attività avere il Green Pass rafforzato il governo ha deciso di far scattare il doppio automatismo. Visto che il tampone positivo sospende il Green Pass il tampone negativo lo deve riattivare. I tecnici stanno modificando gli algoritmi in modo che sulla piattaforma nazionale e sulla app.io venga registrato in tempo reale il cambio di condizione del cittadino scongiurando così ritardi nel nuovo rilascio della certificazione verde.